Din dong, hello amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo appuntamento qui sul canale altri pronostici di Vrestelmania e oggi andiamo a parlare di quei pronostici dove secondo me non c'è bisogno di parlarne tanto come sono stati i precedenti video che avete visto e quelli che magari vedrete ancora. Quindi pronostico secco, vi dico la mia opinione e mi raccomando la vostra opinione nei nei commenti. Se state vedendo questo video prima delle due maratone che ci saranno vi ricordo che sabato e domenica faremo due maratone a partire dalle 22 la prima vedrà la prima ora con domande e risposte e poi un mega sbusto di due ore dove andremo a caccia di rookie card cioè le prime card uscite di quel lotatore lì e cerchiamo le rookie di Roman Reigns, di Seth Rollins, di Charlotte Flair quindi rookie card importanti e poi anche come potete vedere dietro di me qua di dietro ci abbiamo tre box della divisione femminile del 2021 dove dentro c'è garantita o una reliquia o un autografo quindi a caccia anche di autografi e reliquie oltre che di rookie card. Quindi notte 1 succederà questo notte 2 ci sarà sempre la prima ora dedicata alle vostre domande e risposte e poi dopo ci sarà il momento degli abbonati ovvero quei ragazzi che ci sostengono con un abbonamento che verranno in live con noi a dirci i loro pronostici e poi faremo un quiz in stile chi vuole essere milionario a tema a tema Vrestelmania con gli abbonati come concorrenti. Non mi dilungo oltre in chiacchiere parto con i pronostici di questi match che ripeto secondo me non hanno bisogno di essere non ce n'è bisogno di parlarne così tanto. Il primo è Dragon Lee e Rey Mysterio contro Dominic e Santos. Vado con la vittoria dei cattivi un Dragon Lee infilato dentro di forza magari un Carlito era era meglio. Chissà che non porti a un tornillo di Carlito geloso magari anche lui di questa cosa qui e magari si unisce a Santos oppure vedere un qualcosa legato a Rey Mysterio e al padre magari un Rey un Dominic che si rende conto di che sta sbagliando e Rey riesce a farlo ragionare ritorna nei buoni o magari un Dominic che strappa la maschera a Rey potrebbero succedere veramente tante cose sapete quanto sia per me indifferente Dragon Lee non mi piace per me non è adatto il suo stile di lotta alla WWE secondo me però dovendo dare un pronostico ripeto vado con la vittoria di Santos e del buon Dominic Mysterio. Il trio delle damage control quindi Kairi Senda, Kotakai e Asuka contro bianca Naomi e Jade Cargill. Allora il cuore vorrebbe la vittoria di Asuka perché sono un fan della della giapponese non ha mai vinto a Wrestlemania mi piacerebbe che vincesse una volta a Wrestlemania ma sembra che non sia che anche quest'anno non sia non sia l'anno giusto. C'ho sempre un 10 per cento di speranza che lei vada a schienare Naomi però è il primo match della Cargill quindi la vedo dura che Jade Cargill possa perdere. Vado con la vittoria delle face e sono curiosissimo di vedere Jade Cargill combattere perché io riesco a seguire solo la WWE il resto non lo seguo ma non perché non mi piace ripeto ma per mancanza di tempo a volte fatico addirittura a vedere NXT quindi non non sono mai riuscito a vedere Jade Cargill nelle altre federazioni in cui ha lottato e sono curiosissimo di vederla l'ho visto solo per pochi minuti alla Rumble quindi voglio vedere Jade Cargill in azione e vedere che cosa che cosa è in grado di fare sono veramente curioso di di questo match qui e vado ripeto a mio male in cuore con la vittoria di Bianca Naomi e Jade Cargill. Passando al ladder match che contento del ritorno della stipulazione perché secondo me avreste almeno un ladder match ci vuole ogni anno quello della 31 per me fu bellissimo tra l'altro ci furono anche il bardo e il Godzilla a bordo ring a commentare vinto tra l'altro da Daniel Bryan altro grande atleta e la vittoria qui la vittoria qui non va a nessuno o meglio mi spiego meglio secondo me avremo un pareggio ovvero Artruth ed Emise che staccano la cintura di Raw e Theory e Waller che staccano quella di SmackDown mettendoci un 10% concedetemelo che quella di SmackDown la staccano quelli del Judgment Day per passare a SmackDown e avere una divisione del gruppo senza di fatto un litigio un litigio vero e proprio una semplice divisione so che ci sono rumors che vedono Theory e Waller che potrebbero finire fuori da Vrestlemania al momento io sto registrando questo video prima di Raw e di SmackDown non c'è nulla di certo quindi secondo me loro restano i favoriti per prendere le cinture di SmackDown quindi ripeto il mio pronostico pareggio in modo che così anche le cinture di coppia si dividano e quindi ogni roster possa avere i loro i loro campioni di coppia quindi ricapitolando Artruth ed Emise come favoriti per quelle di Raw per quelle di SmackDown Theory e Waller con un 10% per il Judgment Day altro match è questo qui di Vido per il titolo degli Stati Uniti tra Logan Paul, Kevin Owens e Randy Orton potresti chiedervi il perché non ne parlo questo in maniera un po' più approfondita come gli altri perché di fatto con Kevin Owens ne abbiamo parlato con Sami Zayn Logan Paul combatte pochissimo e Randy Orton è ritornato alle Survivor Series quindi anche lui c'è veramente poco di cui parlare dovendo scegliere un vincitore qui il cuore mi dice Randy Orton la testa mi dice Logan Paul però sono miei pronostici io vado col cuore quindi vado con Randy Orton anche perché ha avuto l'ultimo regno che ha avuto come campione degli Stati Uniti è stato veramente brutto cioè è durato meno di un mese di transizione giusto per farglielo vincere e magari Randy Orton potrebbe risollevare un pochettino questa cintura perché Logan Paul sui social sta facendo un grandissimo lavoro sta dando tanta notorietà al brand WWE però è poco presente nelle puntate settimanali invece un Randy Orton molto presente potrebbe far bene alla divisione ecco magari con delle open challenge come fece John Cena perché no e Kevin Owens non secondo me non ne ha un reale non dico un reale bisogno però lo vedo molto indietro Kevin Owens con questa con questa cintura vado quindi ripeto con la vittoria di Randy Orton però sì dai vado con Randy Orton e e spero che la vipera possa vincere questo questo match chiudendo con questi match con questi pronostici rapidi ecco chiamiamoli così AJ Styles contro LA Knight è il match del nulla è un match che urlava tantissimo stipulazione speciale al momento non l'hanno messa al momento che registro questo video è un match è l'unico match di Vrestelmenia che veramente non riesco a trovare un reale interesse in tutti i match per quanto ci siano atleti che magari non mi piacciono come reni stile e Dragon Lee contro Santos e Domini che in quel caso c'è Dragon Lee che veramente non mi riesce a piacere però comunque c'è interesse nel vedere magari arriva Carlito che tradisce Ray perché si sente si sente messo da parte per far spazio a Dragon Lee magari c'è Ray che viene smascherato da Dominic c'è qualcosa qui c'è il nulla qui se la prendono perché tutti e due hanno perso contro Roman Reigns questa è di fatto la storia di questo match che ripeto sarà l'unico match che non ha il mio interesse ecco vado con la vittoria di LA Knight giusto per dare una vittoria scusate una vittoria a qualcuno e Jay Style è sulla via del tramonto oramai scusate oramai sappiamo che lotterà ancora per poco forse non ha tutto sto gran bisogno di una vittoria LA Knight per ritornare in alto un po' nel suo momento col pubblico magari ne ha più bisogno e quindi vado con la vittoria di LA Knight e con questi pronostici rapidi ho concluso ci vediamo al prossimo appuntamento qui sul canale mi raccomando il like e ditemi i vostri pronostici di questi match qui noi ci vediamo alla prossima amici e ciao